Ben ritrovati dall'Ippodromo del Mediterraneo per presentare il nuovo convegno di galoppo che andrà in scena sabato 18 ad apertura alle 14.35 di spicco, due condizionate divise per età, è una corsa che sarà la trisquart e quinte di giornata proprio a chiusura convegno. Ma scendiamo nel dettaglio del pomeriggio al galoppo siracusano e andiamo a presentare subito la prima condizionata, quella riservata ai cavalli di tre anni, il premio Libia, si andrà sulla distanza selettiva dei 2100 metri della pista piccola con 5 soggetti al via. Temperance King è un soggetto che si sta mettendo chiaramente in evidenza per la sua qualità e soprattutto potrebbe far bene anche su questo tipo di distanza. Tra qualche istante il suo allenatore Fantino Carmelo Zappul ci dirà proprio perché ci riprova su questa distanza selettiva. Ma una primissima chance non va assolutamente esclusa a Don Aureliano, ben intonato sulla distanza e sicuramente un cavallo dall'ottimo ruolino di marcia. Mai fuori dal marcatore e resta sul successo incondizionata proprio sui 2100 metri, su un tracciato un po' più morbido. Bene in corsa anche il tandem dell'allenatore Vincenzo Caruso con l'ago della bilancia però che potrebbe pendere su io so io, vincitore sui 1700 metri ma atteso anche sulla doppia curva che tra l'altro ha provato a Napoli al debutto riuscendo a piazzarsi. Quindi la compagna di allenamento Iside Griff con tre successi all'attivo è in linea chiaramente con uno dei più attesi Don Aureliano. Noi abbiamo ascoltato come già vi anticipavo il Fantino e allenatore Carmelo Zappul impegnato proprio con Temperance King. Temperance King stiamo provando la distanza perché c'è un handicap principale in vista e quindi voglio provarlo a fare qui in una corsa di preparazione, a farlo correre qui perché ci ha già corso sulla distanza però ha avuto qualche intraccio e non l'ho saputo valutare bene. Qui il cavallo da battere è il numero uno sempre secondo me, Don Aureliano e anche io so io che non ha mai corso sulla distanza però ci può correre bene in base alle corse che ha fatto sul miglio. Premio Grecia per un handicap di minima, seconda corsa in programma, quattro anni ed oltre al via sulla breve distanza dei 1100 metri della pista piccola, sono in sette raccolti agli ordini dello starter, una corsa questa riservata ai velocisti quindi nonostante i chili il pronostico potrebbe partire da Zachira che apre proprio il campo partenti, sicuramente un soggetto con un peso non semplice ma trova un contesto ampiamente alla sua portata. La prima alternativa la si potrebbe trovare in Eurodendi soprattutto se dovesse confermare i segnali di progresso mostrati proprio all'ultima uscita quando riesce a piazzarsi in una vendere e oggi lo troviamo con situazione ponderale a favore. Altri nomi potrebbero essere quella di Ture Latif, cavallo alterna ma sicuramente impegnata in una distanza congeniale e Toy Room dalla carta recente chiaramente non esaltante ma su questa distanza breve potrebbe migliorare. ingaggiata su distanza limite Firenze-Sogna dalla forma ovviamente opaca ma ben messa in perizia. Sentiamo come ce la presenta il fantino Daniele Scalora. Seconda corsa a mondo Firenze-Sogna, la cavalla è messa bene in perizia, 1100 pista piccola secondo me è un filino corto però la cavalla è annunciata molto bene. La cavalla che spicca è l'1, Zakhira, secondo me è una cavalla che può risolvere bene questo contesto è una cavalla molto veloce e poi diamo fiducia anche a Eurodendi per una prestazione che finisce il secondo, se ripete quella prestazione la cavalla può correre molto bene. Ancora un handicap di minima per la terza corsa in programma, questa volta scendono in pista cavalli di 3 anni che si misureranno sui 1500 metri della pista piccola, sono in 10 al via. Proviamo a guardare la parte alta della perizia e quindi a Il Corriere, cavallo che ritorna su una distanza più congeniale e anche se gravato ha dei buoni riferimenti per giocarsela. Smocasigarette è un'altra che di mezzi ne ha, certo è carica, è una femmina e ha un fisico esile, ma nel contesto nonostante questo potrebbe dire la sua. Quindi scendendo un po', Stolen Dance, cavallo che si presenta molto bene all'ultima, venendo bene in fondo e poi Zarlouche, un soggetto che trova una piazza a vendere e nel contesto magari potrebbe replicare. Albavera è un altro soggetto che corre bene. Due le opinioni riservate a questa corsa, ancora sentiamo il Fantino e allenatore Carmelo Zappulla impegnato proprio sul Corriere, il top weight dello schieramento e Daniele Scalora che invece monterà smocasigarette. 63,5 kg per il Corriere che affronta questo handicap di minima, in che modo secondo te? Il cavallo già ci ha corso sui 1.600 metri, sui 1.500 e ha pure vinto, un discendente da 6,6. Poi ho ricorso a 2.000 metri ma non fanno per lui le due curve. Ora anche se è un po' penalizzato al peso, che è 63,5 kg, secondo me può correre bene. Mi piace il 3 di Stolen Dance che quando vinse fece il finale piazzandosi al secondo posto e poi mi piace Albavera che sta correndo bene le ultime corse e il numero 2 è Smocasigarette. Smocasigarette, Shantz? Guarda, la cavalla è un po' carica al peso perché è 62,5 kg, la cavalla è una cavallina un po' esile, secondo me è una cavalla che estenderà un po' i chili. Questo è un bel handicap molto aperto, mi piace il 5 di Zarlac perché ho avuto fortuna di montarlo e finire secondo in una vendere, secondo me è il cavallo che può correre molto bene. Poi Albavera, idem, il Corriere anche se è carico è un cavallo da ottimi trascorsi. Vendere con soggetti di buona qualità, saranno impegnati nella quarta corsa in programma, il premio Biero Lus, 4 anni ed oltre sul doppio chilometro della pista sabbia in 9 al Via. Dicevo, una vendere con soggetti di qualità dove spiccano sicuramente i mezzi del declassato deron kit, quindi che è ritenuto il soggetto da battere. Spicca il rientro di Orange Sweet, cavallo con buon peso e annunciato in ordine. Spicca ancora lo specialista del distanze del tracciato, nonché Coriaceo e vecchio lottatore Special Rush, ma non si escludono altri possibili inserimenti come quello di Wildness, sicuramente bene al peso, e di Wonka Willi. Giudiamo il microfono all'allenatore e il fantino Sebastiano Macca, che sarà proprio in sella a Orange Sweet, ma che ci parlerà anche dell'altro soggetto, sensazione poi, bene al peso e ben montato. Sentiamo. Il cavallo rientra dopo un po' di fermo, ma è in ottima forma, un cavallo che giustamente l'ultima corsa che ha fatto ha vinto, ha vinto facile con 64 kg. Adesso c'è un 55, è un cavallo sempre da battere. Sensazione poi, un cavallo qualitativo, sta rientrando e può fare pure bene con questo pesino. Il cavallo da battere, secondo me, è di Ronchitti, un cavallo con 54,5 kg è da valutare. Ha annunciato in progresso anche Gialapeno, allievo di Stefano Postiglione. Sentiamo a tal proposito Daniele Scalora. Quarta corsa sono in sella di Gialapeno. Il cavallo l'ultima volta finisce quarta in un handicap, si sta avvenendo che ha delle fasi di progresso. Però è riuscito a vendere molto qualitativa, perché De Ronchitti è un cavallo che a vendere penso che è un po' declassato. Idem Orange Sweet, anche se sta rientrando un cavallo di grossi mezzi. Special Rush, ottimo specialista della sabbia, secondo me è una vendere molto qualitativa. Spendiamo bene in una piazza, però da non sottovalutare questi avversari. Altra prova di cartello, ci riserva la quinta in programma, il premio Tunisia, quindi la condizionata che questa volta ingaggerà i cavalli di quattro anni ed oltre sui 2100 metri della pista piccola. Altra prova chiaramente interessante. Andiamo un po' a vedere i possibili protagonisti. Partiamo da Arcadius, vincitore dell'ultima uscita, tra l'altro destando ottima impressione. Canoing, cavallo dall'ottimo peso, dagli ottimi trascorsi, è annunciato in ulteriore progresso. Ancora Fembrus, se vuole, può tutto. Koskov, lo releghiamo magari al ruolo di sorpresa, ne parliamo tra qualche istante con Daniele Scalore, e capiremo sicuramente di più. Lear, they were wrong, un cavallo di mezzi, ma meglio forse su un terreno allentato, così come lo stesso Under Secret. Neileta è un altro nome di spicco, ritorna su una tracciato e su una distanza congeniale alle sue attitudini e anche se carico ha una chiara chance. Ma anche in questo caso non si escludono possibili sorprese. Ascoltiamo noi Carmelo Zappulla, ingaggiato su Canoing, altro possibile protagonista, e Daniele Scalore invece su Koskov. Sì, Canoing ritorna di nuovo con i 55 kg, che essendo che aveva bei trascorsi ha affrontato corse e handicap principali con molti kg. Niente, secondo me con questo peso potrebbe risolvere la corsa. Poi l'allenatore mi ha detto pure che ha una buona condizione. Poi non si può escludere il numero 6 di Neileta, che ritorna nella sua pista. Mi piace pure Fambrus e una sorpresa può essere Koskov. Koskov vince bene l'ultimo non a vendere su 2003. Ora riprendiamo in condizionata, certo è un contesto molto aperto. Arcadius è un cavallo che qua vince un handicap. Coining Item, Fambrus è un cavallo che sta avendo delle fasi di progresso. Lear Dewey Duvar, secondo me è un cavallo da grossi mezzi, però sono un terreno allentato. Neileta è un cavallo buono. Stavolf Wers vince l'ultimo sul pesante. Tunor è un cavallo che si deve confrontare in erba perché il corso sembra bene in sabbia. E poi abbiamo Tower of Texas e Under Secret. Rispettivamente i cavalli che Tower of Texas sono un cavallo del terreno buono. Under Secret se la pista sarà un po' allentata è un cavallo da grossi mezzi. Secondo me è una condizionata molto aperta. difficile da pronosticare perché possono lottarla tutti. Però mettiamo, sempre come riferimento, Coining per il peso e per la qualità che ha avuto Neileta. E poi inseriamo Arcadius e Coscop. Un handicap di non facile soluzione chiuderà il convegno di galoppo al Mediterraneo. Corsa Trisquartè Quintè, premio Albania. Quattro anni ed oltre sui 1600 metri della pista grande in 12 al Via. Nella parte alta c'è Rusalca. Cavalla sicuramente gravata ma sul tracciato mai a sottovalutarla. Tra l'altro il fantino Giuseppe Emanuele la conosce bene. Mitical Mill, di Mitical Mill ce ne parlerà Daniele Scalora che lo vede meglio forse su una pista piccola ma comunque che ha la sua chance. Chanoir vince bene l'ultima su una distanza più selettiva. Bene in corsa anche Mexico Point. Altra possibile base potrebbe essere Bayley's Olympian, compagni di scuderia e di colori di Mitical Mill. Su questa distanza e su questo tracciato Carmelo Zappulla come capiremo la valuta sicuramente molto positivamente. Un rientro per Dream My Love, camallo di mezzi ma da valutarne la condizione. Sotto proveremo a indicare Uncle Hood con questi 55 kg e piace anche Buratino Denzer affidato ancora una volta a Salvo Basile. Piazza ovviamente alla portata anche di Plutone e attenzione anche a Blue Iram che sicuramente ha una condizione molto buona. Ascoltiamo anche in questa occasione Daniele Scalora impegnato sul grigio Mitical Mill e Carmelo Zappulla su quello che è ritenuto uno dei possibili protagonisti, ovvero il numero 5 Bayley's Olympian. Inzella al grigio Mitical Mill con quante chance? Guarda la prima volta che ero mondo, un cavallo... Se era pista piccola era molto fiducioso perché secondo me sulla pista più piccola corre bene. 1.600 pista grande, 63 kg, una corsaccia. Corsa molto aperta, una corsa che ci sarà una bella andatura. Spicca a Rusalca, una cavalla che fa bene il terreno. Mitical Mill, abbiamo detto. Chat Noir, un cavallo che avvince bene l'ultimo anche su distanza più allungata. McSico Point, un cavallo da non sottovalutare. Con Magno di Scuderia, Bale e Solimian, secondo me è un cavallo che in questo contesto è il cavallo base della corsa. Rientra a Dream My Love, corsa molto aperta, dai. I cavalli che spiccono bene sono secondo me Rusalca, Bale e Solimian e col peso che ha 55 kg è anche l'ultimo. Bale e Solimian, sicuramente cavallo che emerge nel contesto. Come lo valuti? Eh sì, questo la può risolvere la corsa. Ci ha già vinto su questa distanza. Mi piace anche il compagno di scuderia Mitical Mill, Buradino Dancer e anche il numero uno di Rusalca, nonostante i chili. Abbiamo così esaminato le sei corse in programma sabato e l'ippodromo del Mediterraneo e quindi vi aspettiamo. Ricordo l'orario di apertura a 14.35, la chiusura fidata alla Tris Quarta e Quinta è alle 17.35. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS